Il film si intitola Sofa ed è una piccola produzione autoprodotto, è stato girato in sei giorni ed è la storia di una professoressa che ha perso la sua casa e adesso vive per strada e sta cercando di recuperare quella che è la sua proprietà lottando contro quella che è l'amministrazione pubblica e trova l'appoggio anche in altri disperati come lei cercando di recuperare la tranquillità, la pace e soprattutto il rispetto di quella che è la società. Questa storia è stata ispirata a un libro di un autore francese, Georges Gigi Huberman, che è intitolato Come le lucciole, una politica della sopravvivenza, in cui si parla di quella che è la piccola luce rispetto alla grande luce di quella che potrebbe essere l'umanità, la piccola luce che sopravvive, loro lavorano in quello che è l'archivio Paesolini e questa loro piccola luce serve, quella della luce, per lottare contro quello che è lo strapotere di coloro che tendono a tenere sotto le persone. Il mio nome è Bruno Saffad, io sto molto felice di passare il sofà qui nel Torino Film Festival, molto grazie al festival per la invitazione.